Eccoci che si parte per, mi sa, l'ultima gita di sciabinismo. Ecco, argenterà, impianti chiusi, vero neve, e continuiamo. Abbiamo trovato la neve, un po' latitante ancora, e dobbiamo andare lassù. Neve praticamente trovata, possiamo metterli in scena. Ecco che anche i soci hanno un forcato di sci, e via, ormai non ci ferma più nessuno. La nostra cima è sempre più. Siamo quasi ultima rampa. Eccoli i misogi laggiù. Eccoci ormai in cresta. Ventasuso ho conquistato, neve pochina. 1, 2, 3, come on! Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! Hey, hey! Come on, come on! Hey, hey! Come on, come on! Breve ma intenso! Spettacolo! Neve molto bella! Malavitto! Che tecnica! Ultime curve! E poi andiamo a cercare le strisce di neve per raggiungere la macchina. E quando la neve finisce, si va in erba, veri sciatori in erba! Un po' di erba! Un po' di erba! Non è più alpinisti in erba, ma alpinisti sulle pietre! Fabio non molla, vuole arrivare fino alla macchina, con gli sci ai piedi! Mi sa che là è l'ultimo! Io vi saluto! Ultimo pezzo in erba! Eccoli! Eccoli! La neve è brutta! Io ho già i sci sullo zaino! E quindi... Però... Molto molto bello!